Valorizzare le risorse territoriali attraverso il turismo, questo il convegno ottenutosi presso la Sara Conferenze del Centro Culturale Leonardo da Vinci, c'eravamo anche noi. Oggi al Centro Culturale Leonardo da Vinci c'è stato il convegno valorizzare le risorse territoriali attraverso il turismo, l'integrazione di competenze di settori. Il signor Zotti si ha organizzato l'evento, come mai ha deciso di invitare questi ospiti per valorizzare appunto il territorio? Intanto premetto che non l'ho organizzato da solo ma fa parte di un gruppo, l'associazione Forum Città del Piave, che assieme con gli amici che ci partecipano abbiamo individuato il settore del turismo come un momento di riflessione importante per questo nostro territorio, che crediamo sia una valvola di sviluppo dell'economia non solo in chiave di turismo di massa come lo conosciamo nel nostro litorale, ma anche come sviluppo di nicchie di turismo che possono valorizzare anche realtà di entroterra come la nostra cittadina o i nostri comuni. Dottor Topà, oggi abbiamo parlato di turismo e di economia. Qual è la situazione attuale? La zona nostra ha avuto nel 2011 un aumento delle presenze e questo è importantissimo perché se andava in declino dovevamo preoccuparci. Invece grazie al cielo le presenze aumentano. Dobbiamo però fare di tutto perché queste presenze non siano aleatorie. Oggi ci sono, domani vanno da un'altra parte. Quindi dobbiamo diventare più bravi, più ospitali, più creativi e soprattutto più solidali tra di noi. Valle del Chiese è un progetto. Di che cosa si tratta? La Valle del Chiese è questo territorio rurale del Trentino che si estende nella parte occidentale del nostro territorio, da Storo fino a Bondo. Stiamo lavorando sull'idea di proporre una vacanza rurale, una vacanza per distinguerci anche nel panorama dell'offerta trentina, proponendo una vacanza lenta di vero contatto con il territorio, con la natura e con la gente che abita il territorio. Direttore Trentino School of Management, di che cosa si tratta? Qual è la particolarità della vostra scuola? La nostra scuola è stata creata dall'Università di Trento, Camera di Commercio e Provincia Autonoma di Trento. Si occupa di fatto di tre aree di lavoro, una è l'area pubblica e amministrazione, una è l'area arte, cultura e paesaggio e l'area che dirigo è l'area turismo. Il nostro obiettivo è quello di supportare la crescita e lo sviluppo delle risorse umane che si occupano di turismo appunto per quanto riguarda l'area che presiedo e soprattutto di supportare anche la provincia autonoma di Trento al Dipartimento Turismo nell'area legata alle politiche turistiche e ai nuovi progetti che di fatto il Trentino sta sviluppando. Quindi è chiaro che a fronte di un turismo che cambia è necessario anche avere delle risorse umane competenti capace di affrontare e gestire il cambiamento. Come mai avete deciso di valorizzare il vino dell'Alto Adige? Perché il vino dell'Alto Adige è un prodotto primario che trasmette cultura e noi col nostro territorio penso che abbiamo quasi il dovere per quello che la strada del vino dà di suo, nel senso che il paesaggio della strada del vino è ineccepibile e siamo fortunati ad averlo.